Che partita ti aspetti? Mi aspetto sicuramente sarà una partita molto competitiva perché comunque l'Italia nei test di novembre ha dimostrato di esserlo. Quindi mi aspetto un'Italia coraggiosa che sarà in grado di giocare allo stesso livello. E ovviamente nella speranza anche di vincerla, però comunque di tenere alto l'onore e tutto il lavoro che è stato fatto fino adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.